carissimi amici e amiche sono nel centro storico scusate se parlo piano nel centro storico del 166 vedete che bello guardate e dunque un vlog che sugli altri canali non ho mai fatto e dunque sono stata al mercato ho comprato due cose veramente carine adesso dovrei trovare una canchina e guardate che belli scocci che ci sono guardate che bello guardate che bello è qui che vorrei vorrei aprire una libreria vorrei aprire una libreria qui nel centro storico una libreria esoterica è solo che ci vogliono dei capitali non voglio rischiare di perdere soldi e poi non so quanti verrebbero a comprare libri e materiale esoterico però mi piacerebbe tanto gestire un piccolo negozio è pieno di affittasi ma è pieno d'affittasi ma così non mi alzardo a lanciarmi in un'impresa commerciale anche se come lavoro mi piacerebbe tanto e penso di esserci anche portata penso che sarei anche brava lo sapete va bene allora sono qui a camminare devo stare attenta perché ho delle zeppe piuttosto alte e devo stare attenta a non inciampare meno male che non c'è nessuno e sono le ore 13 e la gente a mangiare così che non c'è nessuno posso fare questo film perché altrimenti lo sapete noi problemi che hanno gli youtuber quando fanno dei filmati dove passano le persone un po perché dobbiamo stare attenti a non inquadrarle e un po perché c'è stanno ad ascoltare quello che diciamo quindi allora vedo lì una panchina anche se dal sole mi ci siedo e vi faccio vedere i due acquisti che ho fatto magari mi metto qui dov'è che posso stare senza che nessuno mi guarda qui allora guardate che carini allora 5 euro l'una ho preso penso che stia registrando ancora perché ho poche memorie guardate queste due maglie guardate che carine allora una sembra lavorata a mano anche se non lo è però mi piace molto anche se qui poi devo metterci qualcosa sotto mi ha regalato anche le grucce perciò è difficile tirare fuori il tutto va bene però io ci riuscirò allora poi la metterò dentro allora un effetto guardate com'è bella vedete la vedete vedete com'è bella questa qua non so se si vede e l'altra è questa vedete questo topino sembra abbastanza grande quindi dovrebbe dovrebbe e dovrebbe starmi vedete per fare video altro anche una se andrò al mare dovrei rientrarci in questo topettino vedete com'è bello vedete bene quindi questo è il topettino non so quanto si riesce a vedere perché io il sole negli occhi questa è l'altra maglia 5 euro l'una io direi che ho fatto ho fatto un affare con 10 euro a portarmi queste due maglie che cosa metterci sotto poi vedrò volevo una conna jeans un po corta ma non l'ho trovata ciao 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 ciao